Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, che liberamente tradotto vuol dire che la religione non è un insieme di regole da rispettare. Dopo una settimana di lavoro e di corse frenetiche arrivo all'Eucaristia che sono mezzo morto. Io ho desiderio di incontrarmi con Gesù perché so che a Lui posso dare tutto quello che mi fa soffrire e da Lui posso ricevere in cambio pace e gioia. Gesù io non lo vedo ma sto imparando a riconoscerlo molto concretamente nei fratelli che mi sono vicini in assemblea, nella parola che viene proclamata e nel pane e nel vino che vengono consacrati. Questo non è un insieme di regole da rispettare noioso e pesante ma è un momento fondamentale della settimana che mi serve per vivere una vita bella e degna di essere vissuta.